Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo con pomodorini e parmigiano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono acqua, petti di pollo, olio evo, sale, pepe nero, pomodorini tagliati a cubetti, parmigiano in scaglie, origano e pangrattato aromatizzato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta bagnando il pollo nell'olio e panandolo con il pangrattato aromatizzato. E lo posizioniamo nel vassoio del Varoma e proseguire così per tutto il resto del pollo. Abbiamo panato tutto il pollo, l'abbiamo messo nel Varoma e nel vassoio del Varoma. Adesso metteremo sopra i pomodorini, il sale, il pepe, l'origano ed un filo d'olio. Mettere nel boccale l'acqua, chiudere con il coperchio, posizionare il Varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, temperatura Varoma, velocità 2. Mettere le scaglie di grana, e proseguire la cottura per 8 minuti, temperatura Varoma, velocità 2. Il pollo è cotto. Impiattare e servire. Pollo con pomodorini e parmigiano. Grazie e alla prossima ricetta. schädare. Questa è la prossima ricetta. Grazie a tutti.